Realizzazione della rete fognaria a Scafati continua la presenza di cantieri sul territorio comunale per l'ultimazione di un'opera importante per la città. Lavori programmati come da cronoprogramma ma per il gruppo insieme per Scafati i tempi di lavoro previsti per via Buccino sarebbero stati anticipati e dovrebbero durare circa tre mesi a fronte di un periodo inferiore che sarebbe stato precedentemente comunicato e da attuare in un periodo temporale diverso. In Consiglio Comunale in risposta a un'interrogazione di insieme per Scafati da me illustrata l'assessore Arpaia enunciò un cronoprogramma nel quale tra l'altro si prevedeva per via Buccino i lavori a maggio 2020 per la durata di poco più di un mese. Con grande sorpresa vediamo sul sito del Comune comparire un avviso nel quale si dice che i lavori saranno ripresi a via Buccino della rete fognare dal 13 novembre addirittura al 10 febbraio. Quindi questi lavori poi magicamente da che dovevano durare un mese durano tre mesi in una strada di circa 150 metri quindi con una velocità di due metri e mezzo di fognatura il giorno lavorativo che è una media da, se diciamo da terzo mondo offendiamo il terzo mondo. Ovviamente nel rispetto del Consiglio Comunale, dei cittadini, dei commercianti certe cose dette in Consiglio Comunale andrebbero quantomeno spiegate, andrebbero adotte le motivazioni di queste scelte che oltretutto rimangono cervellotiche e si continua a far fare alla ditta i lavori in maniera troppo comoda, troppo permissiva e lasciando le strade via Tricino, via Passanti, via Marti e Ungheria in condizioni disastrose dal punto di vista del mando stradale e della sicurezza. Grazie a tutti